Musica Bentrovati all'odierna edizione del TG Trappeto e Notizie Adesso facciamo leggere la prima notizia a Cristian Nuovi cartelli a trappeto, i vigili urbani cambiano tutti i cartelli stradali Esatto, mandiamo il servizio e facciamo vedere tutti i dettagli Nuovi cartelli stradali a trappeto, i vigili urbani cambiano tutti i cartelli rovinati E adesso parliamo di intoppi nelle strade e facciamo leggere un'altra notizia a Cristian Non erano dei servizi di qualche edizione fa, se vi ricordate ci siamo occupati di un intoppi vicino distributore di nafta agricola che è stato riparato Mandiamo il servizio Esatto E adesso parliamo di raccolta differenziata Siccome è per i nuovi erari di apertura del comune di trappeto che incidono con i erari della scuola Non possiamo purtroppo andare a chiedere direttamente al sindaco oppure agli altri assessori i problemi e come si possono risolvere Io li abbiamo chiesto via telefono Ovvero Le batterie, i medicinali, dove li prima andranno a buttare? Che a trappeto e gastronetti per questi rifiuti speciali non ce n'è? C'è una risposta che le batterie, l'olio delle macchine e i copertoni vanno lasciati dal meccanico quando si compriano le batterie, quando si fa il cambio d'olio o quando si compriano i copertoni Perché? In pratica se il meccanico vende 20 copertoni ne deve avere altri 20 già utilizzati In modo che così la ditta è specializzata per ritirare questi rifiuti speciali e poi si occupa la ditta di smaltirli La ditta di conseguenza lascia un certificato che quando vanno a fare i controlli Non evita che il meccanico si becca una multa perché ha la ricevuta che gli ha fatto la ditta specializzata Adesso ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo dopo L'evento Dolcinote è un evento che avrà luogo verso la fine di agosto Questo evento ha il semplice scopo di riportare l'arte a trappeto facendo una mostra di alcuni pittori e di alcuni artisti L'evento vuole portare l'arte a trappeto facendo una specie di borgo di dio virtuale In pratica ricostruire virtualmente il borgo di dio nel centro storico recentemente ristrutturato Per info contattate il gruppo su facebook Dolcinote oppure visitate il sito www.dolcinoteproject.altervista.org Adesso invece parliamo di avvisi pubblici del servizio sociale Lo facciamo a Cristian nell'introduzione Avviso pubblico contendente criteri e la modalità per la realizzazione dell'intervento in favore di anziani e 75 anni Dichiarati involli del 100% o disabili gravi Esatto Per varie informazioni potete andare a cercare sul web www.comuneeditrappeto.palermo.it O semplicemente scrivere Comune di Trappeto troverete il sito E andando sul link degli avvisi troverete tutti gli avvisi che leggeremo adesso Allora questione a determina Determine del 14.05.2010 Affidamento e incarico servizi assistenza tecnica software esercizio 2010 Determine del 13.05.2010 Articolo 6 L.R. del 23.03.2010 Spese istruttoria Determine dell'11.05.2010 Approvazione e assegnazione fondo articolo 17 C.C.N.L. del 14 L.1.4.99 Anno 2010 Adesso continui Siamo arrivati qui Legge del 104.1992 Articolo 33 Concessione del numero 18 ore Permesso del mensile retribuita dal dipendente Delibere numero 20 del 6 maggio 2010 Approvazione del progetto esecutivo lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dello stesso per l'adeguamento statistico dell'edificio comunale destinato a scuola elementare. Delibera del numero 19 del 6 maggio 2010. Convenzione tra la sovrintendenza BBCC e A, Palermo e Comune di Giappeto per l'attenzione del catalogo provinciale di Palermo. Esatto, adesso come sapete e mi auguro e molti sapete che giorno 15 maggio 2010 è la festa della regione Sicilia, ovvero si festegge il 64esimo anniversario dello statuto della regione siciliana, ovvero la storia dell'autonomia siciliana si arricchisce di un nuovo capitolo internazionale, parte da Palermo l'iniziativa politica per la costruzione di una nuova macro regione mediterranea. Ben ritrovati al Tg Trappeto, adesso abbiamo trovato la storia di questa festa del 15 maggio che si festeggia l'autonomia della regione Sicilia, facciamo leggere tutto a Cristiani. Il presidente della Repubblica gente napolitana è revocato a Marsala 150 anni dopo lo sbarco dei Garibaldi. Tutto naturalmente cambiato nel frattempo. Poi vennero i nazionalismi, la guerra e la ricostruzione. Quando nel 1960 e il 61 si celebravano solennemente i cento anni e l'unità, l'Italia scopriva allora un'identità nazionale che neanche il fascismo era riuscita ad imporre e che solo la televisione, le autostrade e le istruzioni di massa stavano diffondendo. Oggi lo scenario è dominato dalla prima serie crisi del mondo globalizzato. A Palermo costruiremo una macro regione mediterranea, con il coinvolgimento alle società civili e offriremo la nostra autonomia di iniziativa, una coalizione forte, il GTC, con le altre isole del Mediterraneo e un prestigioso premio intitolato il simbolo d'incontro tra le culture popoli del Mediterraneo. Ok, adesso parliamo di Monnizza. Il trituratore si ferma di nuovo, la discarica chiude i battenti, contrae da Baronia Provenzano, la raccolta è sospesa da smaltire circa 1.400.000 kg di rifiuti. Situazione difficile dietro l'angolo, anche un difficile caso istituzionale che rischia rigenerare un braccio di ferro a causare altri disagi e nel frattempo, mentre la discarica è chiusa, non inizia ad arrivare al settimo piano. Mandiamo il servizio e vediamo tutti i dettagli. Siccome siamo in chiusura, salutiamo tutti i nostri telespettatori e adesso mandiamo al servizio e dopo di chi è la sigla. Alla prossima. Di nuovo chiusa la discarica è incontrata a Baronia Provenzano a Partinico per un'altra rottura del trituratore e mentre la discarica è chiusa, nelle strade l'immondizia torna di nuovo al settimo piano.